Ciao a tutti, sono Franco Rossi, fondatore e coordinatore dell'Accademia di Musica Moderna National School. Se sei un batterista e sei appassionato di jazz, fusion, afro-latin funk e perché no anche incastri o linear, beh, allora sei nel posto giusto. Nel mio corso di batteria tratteremo questi argomenti e molti altri. Ti aspetto! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti